Un po' di confusione con i nomi ma come sempre tanta concretezza invece negli smartphone, nelle cose importanti. Sto parlando di Poco F4 che ho qui nelle mie mani, che vi voglio raccontare in questa recensione. Ricordatevi che domani è il Prime Day, iscrivetevi al nostro canale Telegram delle offerte che trovate in descrizione perché abbiamo già selezionato per voi per i prossimi giorni tutte le offerte migliori e saremo pronti a darvele minuto per minuto appunto nel nostro canale Telegram. Non perdiamoci in altre chiacchiere, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche. Ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing, andiamo a scoprire questo Poco F4. All'interno della confezione abbiamo la manualistica, attenzione anche il dongle da USB-C a jack audio, non però la custodia, vabbè, una volta è un regalo, una volta è un altro. E poi abbiamo ovviamente lo smartphone, il cavo USB-C e questo piccolo, compatto ma potentissimo alimentatore da 67 W. ed eccoci qua con Poco F4, da non confondere con Poco F4 GT. Sì, sto ripetendo tutto, voi non lo sapete ma a volte ci sono dei giorni in cui le cose non vanno come dovrebbero andare e la microSD perde tutta la recensione, quindi eccomi a rirecensire Poco F4. Eccolo qua con questo suo retro in vetro, non so quale tipo di vetro sia ma dovrebbe essere un retro in vetro e comunque si sente doppio gradino, vedete qui nel modulo fotocamera però spessore totale di 7,7 mm quindi comunque tutto sommato abbastanza bene. Sopra abbiamo il secondo microfono, l'emettitore infrarossi e anche il secondo speaker che quindi qua su e non è nella capsula auricolare. Pulito il lato sinistro, sul lato destro tasto di accensione con lettore di impronte digitali integrato dentro, bilanciere del volume, sotto abbiamo la porta USB-C, lo speaker, il microfono e la doppia nano SIM e il carellino per la doppia nano SIM e poi lo vedete qui abbiamo un profilo molto squadrato che secondo me va un po' a renderlo più pregiato almeno in mano di quello che sembra ma soprattutto guardandolo sul retro che ha un design ok però forse un po' anonimo a me disturbano questi tre fori delle fotocamere un po' diversi mentre invece sulla parte frontale abbiamo quasi una sorta di simmetria sì lo so il bordo inferiore è comunque più spesso di quello superiore ma guardandolo così e poi vi parlerò anche del display che sicuramente aiuta a questa impressione lo smartphone è abbastanza simmetrico e questo è sicuramente un pregio. Dal punto di vista del peso vi ho detto 195 grammi lo smartphone è IP53 ovvero resiste agli spruzzi il che non è affatto niente male sempre considerando lo smartphone di questa fascia di prezzo. Lo sblocco lo metto qui da parte vi parlo di specifiche tecniche abbiamo un processore Snapdragon 870 Octa-Core da 3.2 GHz a 7 nanometri con GPU Adreno 650, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile quindi niente slot per la SD connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, c'è l'NFC, emettitore infrarossi lettore di impronte digitale sul fianco destro non c'è il jack audio, c'è il supporto dual sim e per quanto riguarda il sensore di prossimità dovrebbe essere sempre di tipo ultrasonico dovrebbe essere sempre un'ultima generazione e ho notato sensibilmente la differenza rispetto al passato devo dirvi che è molto buono, non perfetto in una chiamata che ho fatto in questi giorni di prova mi è successo di mutare il mio microfono per errore con la guancia durante la telefonata quindi meglio, decisamente meglio, ma ancora non perfetto il display è un 6.67 pollici di diagonale Full HD Plus 1080x2400 pixel è un AMOLED massimo 120Hz di refresh rate 1300 nits di luminosità massima ed è un display che è veramente molto molto godibile c'è anche un touch sampling di 360Hz Gorilla Glass 5 per la protezione e appunto anche il supporto all'HDR10 è molto luminoso ha bordi, vedete, tutto sommato almeno sui lati abbastanza sottili molto piccolo il foro della fotocamera è sicuramente uno di quei componenti che aiuta veramente la causa di questo smartphone utilizzandolo devo dire che sembra di avere veramente in mano uno smartphone di fascia superiore se parliamo del software abbiamo Android 12 aggiornato con le patch di giugno 2022 siamo a luglio quindi tutto sommato va abbastanza bene due anni di aggiornamento, tre anni di patch di sicurezza MIUI 13 è l'interfaccia personalizzata cancello un attimo le notifiche perché volevo farvi vedere una cosa ovvero l'interfaccia quella spezzata con le notifiche da una parte e invece i toggle da quest'altra parte destra e sinistra potete anche poi modificare se volete questa cosa l'interfaccia rispetto alla classica MIUI che trovate su tutti gli Xiaomi in questo poco abbiamo il Poco Launcher credo che ormai molti di voi lo conoscano ovvero questo drawer delle applicazioni che divide tutto in base alla funzionalità e se volete potete anche andare a gestire le applicazioni per colore che è una cosa che mi piace e che mi piace molto ecco qua perché per esempio sappiamo tutti che Whatsapp è verde non perdete neanche un secondo premete sul verde e siete subito a Whatsapp questo vale per Whatsapp come per tutte le altre app Always On Display personalizzabile quindi potete appunto andare a personalizzare l'Always On Display che mostra tutte le notifiche notifica luminosa che quando riceve una notifica riaccende i bordi del display barra laterale che io ho posizionato qui con le app che utilizzo più di recente pronte pronto all'utilizzo secondo spazio per dividere magari il mondo lavorativo da quello privato finestre a scomparsa insomma la classica ottima MIUI che devo essere sincero nel complesso spero che si aggiorni un pochino nei prossimi mesi perché secondo me è andata avanti a passettini ma altre interfacce hanno fatto passi un pochino più lunghi io confido in una MIUI sensibilmente migliorata in termini di funzionalità di numero di funzioni perché poi non ha bug poi almeno questa variante qui di Poco F4 devo dire non ho segnalato bug ed è anche fullminea tre fotocamere come vi dicevo tre fori dimensioni diverse 64 megapixel f1.8 stabilizzato otticamente 8 megapixel f2.2 con è un grandangolo a 120 gradi 2 megapixel f2.4 macro la terza e la frontale nel piccolo fore è una 20 megapixel f2.5 andiamo a vedere l'interfaccia di scatto la classica di Xiaomi abbastanza buona abbastanza veloce io non amo questo selettore qui che nei momenti più concitati sembra sempre non funzionare da dovere velocissimo però il passaggio da una modalità all'altra però video, ritratto e in altro abbiamo tante altre modalità di utilizzo andiamo a vedere come fa le foto allora il sensore principale è assolutamente un sensore di qualità le foto che fa sono genericamente ora vi spiegherò perché di questa definizione molto buone genericamente perché? perché nel complesso può comunque capitare quello scatto leggermente con un'esposizione alle forti luci soprattutto non perfetto e con meno luce invece fatica di più c'è decisamente un po' più di rumore qui non sembra che la stabilizzazione ottica aiuti poi tantissimo la modalità notturna può aiutare ma non sempre è totalmente risolutiva diciamo che è uno smartphone con una fotocamera che sta nella sua fascia ovvero tutto sommato nella fascia media senza brillare particolarmente ma neanche senza situazioni disastrose discreta anche la fotocamera frontale e anche la grandangolare almeno quantomeno ha lo stesso colore lo stesso bilanciamento di quella principale sono comunque 8 megapixel che per una grandangolare non sono moltissimi ma ci si può stare 4K60 i video che registra sono veramente dei video di buona qualità con una buona definizione l'unica cosa che mi sento ridire è che a 60 fps non sono stabilissimi vanno però bene per video registrati se non si sta camminando se non ci si sta muovendo troppo parliamo di gaming andiamo ad aprire Asphalt ma che Asphalt? si chiama Legends si chiama Legends anche se non Legend ma non è Asphalt è invece Apex ok aspettiamo che carichi ecco ovviamente era qualche giorno che non l'aprivo e quindi come sempre c'è qualcosa da scaricare per fortuna sono pochi megabyte si apprezza moltissimo l'esperienza vedete diciamo full screen di questo gioco qui abbiamo sempre la barra laterale con mi pare dalle impostazioni si possono comunque attivare delle impostazioni specifiche per i videogiochi che io mi sa che ho sovrascritto con questa con questa barra qui vi parlo dell'audio perché l'audio è stereo e tra l'altro è stereo vero come vi dicevo all'inizio ce l'ha fatta? no è stereo vero e si sente l'audio è veramente buono per la fascia di prezzo non è un audio da top di gamma ma è un audio migliore dei medio gamma soliti dannazione quanti dati quanta roba deve spacchettare questo gioco come tanti altri ogni volta comunque lo Snapdragon parlo di prestazioni 870 funziona alla grande secondo me è uno dei processori meglio riusciti essendo un po' la versione poverina sfortunata perché stava dopo l'865 ma prima dell'88 insomma diciamo che questo 870 è capitato un po' lì per mitigare i prezzi alle stelle dei processori top di gamma ma secondo me fa veramente bene il suo dovere perché costa il giusto permette di essere inserito in un smartphone come questi ma performa veramente alla grande veramente niente thermal throttling e capacità di essere utilizzato anche per lunghe sessioni di gioco senza che lo smartphone ne subisca drasticamente le conseguenze vabbè non so se riuscirò a farvi vedere davvero una sessione di gioco eccoci qua quindi in una sessione vi ho risparmiato tutti gli step intermedi visto che avevo già riempito un po' troppo di chiacchiere e andiamo subito appunto al sodo andiamo a farvi vedere un attimo datemi un'arma datemi qualcosa niente perdita di frame fluidissimo dove altri smartphone invece qualche frame magari lo perdono giusto mezza sessione di gioco per farvi vedere che non vi stavo mentendo batteria 4500 mAh una buona batteria devo dire nella media se lo si utilizza in modo parco una buona batteria per questo smartphone in un anno in cui però le batterie secondo me hanno fatto un po' meglio rispetto al 2021 cosa vuol dire? vuol dire che non è un battery phone vuol dire che a fine giornata ci si arriva ma non con un utilizzo intenso in quel caso vi viene sicuramente in soccorso il fatto che lo smartphone supporti la ricarica ultra rapida a 65 watt e siamo quindi alle conclusioni questo era poco F4 non mi rimane che raccontarvi del suo prezzo 399 per la variante 628 449 per la variante 8256 che è quello che vi consiglierei sia per la RAM sia per la memoria interna 449 è un buon prezzo è un prezzo giusto ricordiamoci prima di commentare ah no costavano molto meno non è un prezzo giusto che siamo nel 2022 è cambiato tutto non siamo nel 2021 che ci piaccia o no i prezzi sono saliti e questa probabilmente è la nuova cifra dei medio gamma di questo tipo di questo tipo come Poco F4 poi sicuramente è indubbio che una buona offerta non potrà che fare bene alle sue vendite uno smartphone bilanciato uno smartphone appunto che sta bilanciato non ha una grandissima autonomia ma una ricarica molto rapida le fotocamere sono tutto sommata abbastanza buone benché non ci sia uno spicco particolarmente positivo ma soprattutto non ci sono dei veri difetti è uno smartphone appunto bilanciato per chi non vuole diciamo rinunciare a praticamente nessun fattore grazie per essere arrivati fino a qui vi ricordo del canale delle offerte domani 12 13 luglio sono i giorni del Prime Day trovate il link in descrizione grazie per essere arrivati fino a qui un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it